Se vogliamo evitare i play-out dobbiamo fare sicuramente meglio di quello che è stato fatto nel giugno d'andata. Quindi è il primissimo obiettivo. Quello che mi preme è sottolineare il fatto che venerdì e domani è una partita molto importante perché nel giugno di torno più partite passano e meno possibilità di recuperare, anche se ancora ne mancano tantissime. Però sicuramente non può essere partite considerate l'ultima spiaggia. Non ti salvi domani, non retrocedi domani, però tutti noi dentro lo spogliatoio sappiamo che è una tappa molto importante. Da quando sono rientrato sicuramente ho avuto grande disponibilità da parte di tutti. La squadra sono molto molto dentro, hanno voglia di uscire da questa situazione quindi ho avuto veramente la disponibilità di tutti i giocatori, quindi prescindere dall'infortunato chiaramente. Quindi anche la settimana scorsa avevo visto grande voglia di fare una buona partita. Poi le difficoltà della partita sono davanti agli occhi di tutti, insomma incontriamo sempre squadre importanti e poi soprattutto se noi dobbiamo limare assolutamente errori che ci condizionano un po' tutto l'andamento della partita perché anche questa con l'Ofer al Pisolò è vero che abbiamo fatto una partita, l'abbiamo riacciuffata alla fine, abbiamo commesso errori, abbiamo fatti. Però è anche vero che abbiamo concesso le palle gole, le palle che decidono un po' la partita in maniera un po' troppo banale. Gli avversari e quindi con questa qualità che c'è in questo campionato sicuramente certi errori non ti permettono di fare risultato. Io mi aspetto un termo che abbia lo spirito di voler andare a conquistare la palla. Mi hanno insegnato fin quando giocavo che le pre partite si preparano quando è il non possesso palla che vedi lo spirito di squadra, non quando ce l'hai. E quindi è quello lo spirito, è quella la concentrazione che pretendo da tutti. Se abbiamo tanti giocatori che hanno la voglia di andare a conquistare la palla con la famosa rabbia agonistica che fa la differenza nelle squadre, sicuramente ci giocheremo le nostre partite. Dentro questo, che è obbligatorio averlo, c'è che ogni giocatore deve cercare di migliorare la propria prestazione, ma non nel termo in generale. Quindi questo me lo aspetto singolarmente, pretendo che ogni giocatore dentro di sé abbia quell'ambizione di migliorare se stesso e poi il sottoscritto all'obbligo di far sì che lo spirito che abbiamo detto fino adesso sia dominante per cercare di fare risultato.